Continua a riscuotere un immutato successo la compraternita di Misericordia anche a Piacenza. Disegna il profilo di cosa voglia dire partecipare all'esperienza della solidarietà. L'associazione di volontariato che ripete se hai tempo, libero, vieni da noi. Oggi è il quartiere Besurican. Oggi inauguriamo l'ampliamento del nostro ambulatorio che avevamo già. Avevamo un ambulatorio infermieristico per fare i prelievi. Abbiamo pensato di fare un ambulatorio medico per visite specialistiche, per persone come il nostro ambulatorio è gratuito, per persone che hanno bisogno. Nel nostro ambulatorio ci saranno 5 medici, ogni anno solo specialità, che svolgeranno visite specialistiche e con apparecchiature. Il governatore, alla fine commosso, ringrazia i medici, i costruttori di un sanificatore unico costruito ad hoc. Siamo pronti, conclude, per ripartire alla grande. Il 18 novembre del 2006, nel Salone Parrocchiale di San Ladori in Piacenza, davanti al notaio e al correttore Don Pietro Bulla, l'atto costitutivo della confraternita di misericordia di Piacenza. Oggi la festa affollata, connotata dall'entusiasmo, dalla commozione dei volontari, condivisa con autorità, ospiti, il sindaco, il vescovo emerito della diocesi, medici, operatori a vario titolo, mecenati. Ciascuno ha aggiunto una nota di speranza. A conclusione la preghiera, la benedizione, il taglio del nastro all'ingresso della nuova sede, un applauso lungo, la visita alle strutture e alle macchine. Il quartiere Besurica oggi e Piacenza intera si sente più sicura. C'è una presenza di persone di valore e strumenti per vincere le paure.